Ecco, siamo arrivati a una domenica molto speciale della Quaresima, detta della trasfigurazione del Signore. Già da tanti secoli nella struttura liturgica di questo periodo c'è una domenica diversa dalle altre, dove non si parla tanto dello spirito di penitenza, ma si parla di un evento specialissimo occorso a Gesù e ad alcuni dei primi discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quest'evento è che durante un momento di speciale preghiera, su un monte scelto da Gesù, dove lui probabilmente era stato altre volte da solo a pregare, avviene una rivelazione della sua divinità sotto forma di straordinaria luce. Gesù che nella vita terrena appare quasi sempre come un uomo come gli altri, in quel momento si vede che Dio, che Dio sfolgora una luce misteriosa su tutta la sua persona, dalla sua persona, e poi anche, secondo il racconto di Matteo, che oggi non ascoltiamo, ascoltiamo quello di Luca, la voce misteriosa, questo è il mio figlio di letto, ascoltate lui. Questo evento è di straordinaria importanza, non solo per la storia dei primi discepoli, ma anche per la nostra vita, perché li sosterrà nell'ora del Calvario. Gesù si mostra a loro in questa divinità, in questa forza divina, in questa luce divina, e poi anche si mostra al centro della grande rivelazione storica di Israele, con Mosè e Elia che simboleggiano tutta la tradizione precedente, per sostenerli nell'ora della passione del Calvario, quando un grande buio si distenderà non solo sull'anima di Gesù, ma anche su quella dei discepoli. Ecco ora, questo evento è importantissimo per noi, perché questa luce della trasfigurazione tocca anche la nostra vita. Nel buio del nostro cammino, insieme a Gesù, nella vita ordinaria, c'è qualche momento in cui brilla la luce del Signore nel nostro cuore, in cui noi capiamo qualcosa del suo mistero, di ciò che vale nella vita, di qual è la strada della salvezza, e appare a noi come una luce di un ideale. Questa luce è proprio, dobbiamo metterla in grande rilievo nella nostra vita, perché sarà essa a sostenerci nell'ora del buio e ci consentirà di non sperderci nell'ora del Calvario, ma di attraversare l'oscurità per arrivare alla risurrezione, alla vita piena, alla vita piena di pace e di luce che il Signore vuole darci. Ti invito a spendere bene questa giornata e ad aprire il cuore a questa nuova luce, non ti far risucchiare dal mondo, perché nel mondo brillano delle luci fatue che poi si spengono lasciando tanta amarezza nei nostri cuori e la vita che se ne va. Ti benedico perché possa vivere questa domenica come l'inizio di una tappa nuova della tua vita. Per questo ti benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricorda quelli che sono a Messina che dopo la Messa delle Nove faremo un incontro di approfondimento sia della vita comunitaria sia della grazia di oggi, di questo Vangelo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.